ciao a tutti ragazzi non so se si veda ma penso proprio di si purtroppo non sto ancora bene e ho tipo la faccia molto sbattuta quindi come vi ho detto anche negli altri video vi chiedo scusa per la faccia, la voce perché ho raffreddore, mal di testa, mal di gola, tutto e per le condizioni insomma scusatemi, cioè so benissimo di non essere poi sono tra l'altro pure struccata, cioè malata, struccata quindi non ne parliamo nemmeno allora questo sarà un video non troppo elaborato o con una preparazione super particolare però secondo me sarà un video molto interessante che potrebbe farvi perché no riflettere e poi secondo me sarà interessante perché no cioè secondo me può farvi riflettere e ragionare particolarmente questi capelli non so se tagliarli o tenerli vorrei tagliarli tipo tantissimo tipo tutta questa parte allora intanto grazie per aver aperto questo video grazie perché se siete qui significa che state guardando questo video insomma grazie che brutto che è il microfono così da vedere quindi grazie e ho anche il naso rosso non so se si vede quindi c'è proprio meno dura questo video, meno vedete la mia faccia meglio è secondo me secondo me allora intanto vi faccio vedere una cosa ho portato anche dei trigger che mi possono aiutare perché non ce la faccio con la voce quindi aspettate 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 non riesco di respirare allora non so se vi ricordate e non so se c'eravate all'epoca quindi faccio una breve premessa se magari qualcuno non c'era io in questo momento me ne sto altamente fregando del mio aspetto estetico perché non sta bene quindi scusate io all'inizio dell'anno questo per chi non lo sapesse questo qua sono molto credibile con un quanto questo qui è il mio quaderno dove dentro ci sono scritti tutti i video tutte le idee i miei progetti un po' tutto quello che ha a che fare con il mio canale youtube diciamo avevo scritto verso febbraio c'è un video sul canale però dovete andare indietro di un paio di mesi lo trovate sui temi importanti dove avevo stilato una scaletta di obiettivi per il 2022 e questo foglio con questi obiettivi avrei dovuto appenderlo in camera in modo da visualizzarli e avere questo foglio penamente cioè concentrarmi molto sul focus e questo lo dovevo fare a febbraio adesso siamo a fine agosto e non ho fatto letteralmente nulla però vabbè e questo video mentre faccio trigger volevo leggerli e vedere a che punto sono se ne ho raggiunto qualcuno se non l'ho raggiunto quindi ci sono un po' di cose da valutare insomma quindi diciamo che questo video era fare dei trigger e nel frattempo guardare questa scaletta ma allo stesso tempo darvi anche la motivazione quindi darvi anche un po' di carica un po' di energia per anche voi seguire i vostri obiettivi o comunque le vostre idee i vostri pensieri insomma iniziamo subito allora obiettivi 2022 prendere la patente si ce l'ho fatta ho preso la patente solamente che poi sono successi due episodi spiacevoli uno molto molto forte per me che hanno a che fare con la strada per questo non ho più parlato della patente o cose quando non mi sentirò pronta magari riaffronterò l'argomento patente o comunque l'argomento strada così adesso non mi va sinceramente perché ho molta paura e molto panico nel guidare adesso dopo quello che è successo nulla di grave tanto grave però grave si secondo me e non ve l'avevo mai detto ma essendo che quest'anno ho anche lavorato mi sono comprata una macchina piccola ma bellissima è una 500 però volevo parlarmi meglio in un altro video un po' più dettagliato magari vi faccio anche il car tour cioè il tour della macchina però non in questo video cioè per adesso per adesso mi limito a dirvi che ho preso la patente ho comprato una macchina con i soldi con i miei risparmi e tutto quindi l'obiettivo è stato raggiunto però il discorso macchina e patente lo affrontiamo in un altro momento poi due obiettivo numero due tempo per lilla allora il tempo per lilla intendevo il tempo dedicato alla cagnolina allora ci sono state delle settimane dove l'ho cagata molto passatemi il termine delle settimane dove questo è successo un pochino meno però cioè non ci sono riuscita al 100% perché la mia idea era anche quella di un paio di volte alla settimana a portarla fuori fra una passeggiata ma con la scusa che noi abbiamo un grande giardino mi attacco sempre a questa cosa e non la porto a passeggiare poi sono piccola quindi vorrei impegnarmi molto di più l'ho tra virgolette raggiunto però l'anno non è ancora finito e quindi c'è ancora molto da lavorare diciamo su questo punto vorrei impegnarmi anche molto 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 di più cioè ci tengo particolarmente poi ne avevo scritti 10 quindi senza esagerare il punto numero 3 diceva costanza canale più uno due nuovi format allora costanza con il canale penso all'80% perché ci sono stati dei giorni in cui non sono usciti i video però c'erano delle motivazioni tipo magari stavo male non andava internet non ero riuscita in tempo ad editarlo il video magari era pronto però era troppo tardi quindi conveniva molto di più farlo uscire il giorno dopo quindi ci sono tante cose ok uno due nuovi format allora sicuramente con l'SMR ho aperto tante pagine quindi direi di sì volevo portare un format con la macchina che però non ho ancora portato adesso vedo cosa riesco a fare comunque questo obiettivo l'ho raggiunto all'80% e secondo me ci devo lavorare ancora un pochino però diciamo che non è andata proprio male cioè mi sono impegnata molto poi leggere no questo proprio zero e infatti ho trovato un post su instagram strabello che diceva quattro cose da fare e voglio provare a seguirle adesso non ce l'ho qui quindi però leggere no ma voglio assolutamente rimediare a questa cosa proprio tanto perché ci tengo e mi è sempre piaciuto tanto leggere però non so perché non mi metto cioè magari anche un'oretta al giorno però secondo me fa la differenza e leggendo impari sempre qualcosa di nuovo secondo me poi volermi bene allora questo così come quinto punto ho scritto volermi bene allora diciamo che non l'ho raggiunto questo obiettivo ed è penso il più difficile proprio da raggiungere nella mia vita non soltanto quest'anno o come scaletta di obiettivi allora ci sono stati dei periodi dove ho cioè mi sono tipo odiata o comunque proprio mi detestavo e questo è uno di questi periodi per questo vi dico spesso che è un periodo tanto 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 tosto ci sono stati periodi in cui mi sono apprezzata e ho provato ad apprezzarmi un po' di più però la strada è ancora tanto lunga tanto 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 lunga e secondo me c'è ancora tanto 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 da lavorare poi io sono molto molto critica con me stessa non sono puntigliosa precisina o pignola questo no forse da piccola però sono molto esigente severa e in un certo senso cattiva con me stessa ma veramente tanto quindi questo devo dire sì cioè è proprio la cosa più difficile o è molto tosta come cosa comunque volevo anche spiegarvi il perché sto facendo questo video a fine agosto e non a fine dicembre o a inizio gennaio innanzitutto perché sta per arrivare il mio penso è il mio mese preferito dell'anno che è il mese di settembre dove tutto ricomincia le persone sono come posso dire più invogliate a una rinascita ripartono le scuole si ricomincia a lavorare si tornano dalle vacanze settembre è un mese che mi è sempre piaciuto tanto in questo ultimo periodo anche tipo gli youtubers ritornano quindi è molto bello ritrovarsi poi per fare un punto della situazione a me stessa cioè per dire ricordati che queste erano le cose a cui tu tenevi molto ok e poi per ricordare anche a voi che non è perché siamo ad agosto allora ci lasciamo andare abbiamo sempre del tempo che possiamo dedicare a noi stessi e abbiamo sempre una seconda occasione basta essere pazienti e sapersi perdonare saper perdonare e sapersi perdonare cambia molto ti fa crescere ti cambia ti fa avere una certa maturità una certa consapevolezza insomma quindi sì non so se mi sono spiegata ma poi perché no questo video lo posso rifare anche a dicembre o a gennaio però adesso ti fa pensare ok abbiamo passato la metà dell'anno come siamo messi c'è qualcosa che possiamo fare oppure vogliamo aggiungere qualcosa alla nostra lista o magari c'è qualcuno di voi che non l'ha proprio fatta una lista e la vuole fare capito quindi è un modo per riscattarsi sapersi perdonare e avere una rinuncita su se stessi nei confronti della vita poi ho scritto famiglia nonna e zio nel senso di dedicargli del tempo prendermi cura eccetera allora penso di averlo fatto tranne con una persona della mia famiglia che non nomino perché sono cose molto personali c'è una persona nella mia famiglia che a volte non vado molto d'accordo come può succedere a tutti però mi piacerebbe trovare un equilibrio con questa persona soltanto che abbiamo dei caratteri molto diversi ci vogliamo tanto bene ci rispettiamo e cioè non abbiamo proprio nulla di conflittuale cioè davvero solo che abbiamo dei caratteri molto diversi e spesso bisticciamo quindi mi piacerebbe un po' migliorare con questa persona e non avere magari più degli scontri o cioè mi piacerebbe proprio maturare e che ne so non litigare non bisticciare proprio ritrovare una quieta una pace che da molto tempo non c'è vi faccio degli esempi per farvi capire di cosa farlo lo sto dicendo magari uno può avere un rapporto un pochino altalenante con il fratello la zia i genitori la nonna quindi c'è una persona nella mia famiglia con cui ogni tanto pisticcio e non vorrei più che succedesse questa cosa non è nemmeno semplice dirvi queste cose non è semplice aprirmi e soprattutto fare queste confidenze quindi spero davvero che potrete apprezzare poi ho scritto numero 7 scoprire cose nuove posti ricette abitudini questo non l'ho letteralmente fatto allora posti perché vi farò un video a parte sulle vacanze quindi lascio la risposta a quel video ricette pochissimo però non c'è una motivazione in particolare secondo me non ci ho pensato non mi sono messa tipo a farle però voglio assolutamente rimediare quindi ricette sì di abitudini anzi sono peggiorata perché ho dei ritmi brutti nel senso che non riesco a trovare un equilibrio con il cibo con il sonno andare a dormire a un orario decente cioè ma non perché vado fuori proprio stanno a casa spesso sto sveglia di notte e non riesco a dormire anche per questo che faccio dei video smr per poter essere d'aiuto alle persone che hanno bisogno di dormire per poter aiutare capito comunque no no e ci sto male per questa cosa e proverò a rimediare poi appunto 8 ho scritto orari e come orari mi dico proprio questo allora ci sono stati dei periodi dove sono stata molto brava quindi un pochino sì però l'ho rispettato tipo al 50% c'è ancora molto da migliorare adesso che ho più libertà che sono in vacanza che ho più tempo libero e cose di questo tipo non mi concentro purtroppo non mi concentro su gli orari quindi no però sono molto delusa da me stessa sul punto di vista degli orari anche se spesso non dipende da me e quindi voglio assolutamente migliorare quindi qui lasciamo un attimo un pallino perché è anche un discorso un po' delicato da affrontare per me sia il cibo che il sonno e il dormire bene sono dei discorsi molto tosti cioè veramente molto pesanti fidatevi poi ho scritto essere ordinata più o meno no zero proprio zero non ce la faccio ci sto provando e ci provo però rimando spesso e quando riordino riordino male e purtroppo ancora nulla però 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 non è 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 una giustificazione ma io la uso come giustificazione più che valida quando non stai bene dentro te stesso e non c'hai una pace una serenità e una tranquillità c'è un caos dentro di te ed è quello che io sto vivendo quindi figuratevi fuori con le cose materiali se non c'è un caos quindi è normale non è una giustificazione ma lo è perché non stando bene non trovo un equilibrio non trovo pace quindi figuratevi se riordinare gli oggetti ce la faccio cioè è un po' difficile ma spero che qualcuno abbia potuto capire ok arriviamo adesso al decimo e ultimo punto dove avevo scritto avevo scritto essere sempre me stessa e migliorarmi corsi consigli eccetera allora essere sempre me stessa l'ho fatto al 99% c'è sempre quello 1% magari che puoi cadere nella tentazione e quindi ho avuto magari degli istanti di defiance dove non credevo più me stessa ma può succedere a tutti però sto parlando del 99% all'1% quindi proprio una goccia migliorarmi certo oggi lavoro spesso e sempre corsi consigli eccetera più o meno lì devo ancora trovare le giuste fonti diciamo per migliorarmi sempre di più però secondo me la lettura potrà aiutarmi molto infatti adesso prendo un libro e lo lascio là fuori che così lo leggo però devo dire che essere sempre me stessa sì cercare di migliorarmi sì devo adesso trovare le giuste fonti se così si può dire per fare al meglio questa cosa quindi documentarmi su quali persone quali video quali documentari quale riviste quali possono essere i miei mentori i miei punti di riferimento per diventare sempre di più una persona migliore questo ve lo faccio vedere anche se in realtà però ho fatto vari video sulla playlist del mio canale temi importanti dove ho parlato di Leonardo DiCaprio Chiele Bravia Chiele Lauro Carlotta Natoli quindi già quei video sono dei video di spiegazione a quello che vuole essere il mio percorso interiore e quello che vuole essere il mio percorso di sapermi migliorare come persona però ci lavoreremo assolutamente comunque ragazzi allora il video è finito perché io non ce lo faccio più devo soffiarmi innanzo devo bere un po' d'acqua quindi spero che questo video anche se molto brutto perché ho una faccia terribile vi sia piaciuto fatemelo sapere io fatemi sapere cosa ne pensate innanzitutto del mio discorso in questo video e come siete presi con i vostri con i vostri i vostri i vostri obiettivi quindi se avete scritto una lista se la state rispettando se scriverete una lista e se avete portato a termine quasi tutti i vostri obiettivi oppure no e quindi ci dovete lavorare ancora quindi niente aspetto un vostro commento vi ringrazio per aver guardato questo video e per aver dedicato del tempo per essere stati con me vi mando un forte kiss e ci vediamo domani alle 2 di pomeriggio per un nuovo video vi voglio un sacco di bene grazie di tutto davvero con il cuore ciao ciao e buonanotte a tutti ciao ciao Grazie.